presentiamo i racconti del cappuccino e poesie e filastrocche al profumo di caffè di veronica toniutti veronica è con noi benvenuta grazie buongiorno per questo particolare suo nuovo libro i racconti del cappuccino esatto parliamone veronica allora i racconti del cappuccino è una raccolta di vari componimenti tra appunto come dice il titolo fra racconti poesie filastrocche che nasce per caso al bancone del bar del mio paese io sto a vaglia che è un paesino vicino a firenze e subito dopo diciamo la fine del lockdown della pandemia quello più rigido quando ricominciamo a poter frequentare i locali c'era appunto questa questa atmosfera di grande lontananza e sfiducia fra la gente e al bar io ho ascoltato quello che poi è diventato il primo racconto del cappuccino che è la catasta di legna che era un racconto invece che è basato proprio sulla solidarietà fra le persone in paese e allora pensai di scriverlo immaginando come potesse essere andata la storia dietro quell'aneddoto e da lì è partito tutto nell'intento diciamo di ricreare dei lieto fine potessero in qualche maniera compensare la grande distanza che avevamo vissuto negli anni della pandemia e quindi all'inizio era solo per tenerli al bar li tenevo li tenevamo in degli inserti al bar e poi dopo conosciuto fabio gemignani della gialli roger che ha voluto pubblicarli quindi eccoci qua storie ascoltate raccontate metafore di vita sì proprio così cercando di mettere un po di colore un po di magia per rendere più appetibile la realtà tutto questo raccolto davanti ad una colazione o a un momento comunque al bar ma si parla di cappuccino è la mattina sì più che altro sì perché diciamo che durante i sabati e le domeniche mattina che gli avventori sono più rilassati e quindi si lasciano andare magari in racconti in aneddoti in anche in impressioni su sul territorio sui loro vicini e quindi le chiacchiere no del di paese del fine settimana specialmente sono quelle che hanno fatto germogliare di più i racconti che poi sono stati raccolti ecco questi racconti alleato fine perché c'è una speranza come messaggio nel libro sì l'idea è proprio quella di di dare una visione un pochino più positiva della realtà e anche di rinsaldare quello che dovrebbe essere il naturale istinto delle persone ad aiutarsi a volersi vicini ad ascoltare le storie gli uni degli altri e anche forse a costruire qualcosa di inatteso no qualche piccolo particolare che renda la vita un pochino più stupefacente spaccati di vita di un paesino che però rappresenta la società sì perché nelle piccole realtà chiaramente tutta la società è riprodotta in scala come se fosse un modellino però ci sono tutte le persone di tutte le possibili posizioni sia sociali che culturali e solo che appunto il numero ridotto consente di stabilire rapporti più minuziosi con le persone e quindi di creare davvero un modello forse ideale e poi riproducibile nelle grandi dimensioni nelle grandi società l'idea è quella di proporre davvero una visione del mondo che possa essere utile per costruire qualcosa di più umano di di più di più vero anche chi è veronica toniutti veronica toniutti sostanzialmente è un educatrice che si occupa di relazioni da sempre io in particolare mi occupo del periodo pre natale e post natale però ho lavorato con tutte le categorie di persone che possano avere un disagio nel mondo e e quest'ottica chiaramente è quella che più mi ha influenzato tutte le cose che faccio perché il pallino della relazione dell'ascolto e del punto di vista diverso dal proprio è quello che poi guida tutto guida la scrittura guida i rapporti sociali e tutta la mia visione del mondo è un po' basata su questo quindi di fatto sono un'educatrice e poi sono un appassionata d'arte sono appassionata di letteratura insomma tutte tutte le cose le molteplici facce di cui ogni essere umano è composto veronica vogliamo dare i contatti social ma anche come dove acquistare il libro allora il libro è acquistabile su tutte le piattaforme online più più famose quindi appunto da amazon circuito bbs a feltrinelli presso ovviamente l'editore jolly roger che meraviglioso e tra l'altro proposte davvero poco scontate quindi è usile anche conoscere e poi nelle librerie si può ordinare e sui contatti social basta il mio nome veronica toniotti e mi trovate dovunque su instagram su facebook e insomma questo è e noi leggiamo il libro naturalmente se no si può venire a vaglia a prendere un cappuccino insieme questo è sicuramente da fare venire a prendere un cappuccino e magari perché no creare anche un nuovo racconto sarebbe bello i racconti del cappuccino e poesie filastrocche al profumo di caffè di veronica toniotti grazie veronica noi ci sentiamo o per un cappuccino alla prossima opera grazie mille a voi grazie buona giornata buona giornata Grazie a tutti